Musica Rapina in Villa Ghevio di Meina, gli abitanti erano in casa dopo una collutazione e malviventi fuggiti con un bottino di oltre 30.000 euro. Ariale domani inaugura la stagione sugli sci stretti, primo in Piemonte e domani si scia gratis. Grave carenza di personale nei nostri ospedali, così il direttore generale dell'Asla Penna, la rappresentanza dei sindaci. Cannobio tra i primi comuni del Verbano approva l'ordine del giorno contro la riorganizzazione sanitaria prospettata dalla regione. Tanta gente all'incontro per illustrare il progetto che contempla la riqualificazione dell'ex ospedale di Premosello in partenza alla Pazio. L'arte del presepe napoletano ornavasso alla Madonna della Guardia per i dieci anni della grotta di Babbo Natale. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale la crona Carapina in un'abitazione a Ghevio. I residenti erano in casa, ne è nata una colluttazione. Tempestivamente sono intervenute le forze dell'ordine ma i malviventi sono riusciti a fuggire. Importante il bottino, oltre 30.000 euro. Rapina giovedì sera, torno alle 19.45 in una residenza di via provinciale a Ghevio. Trazione di Meina. I ladri si sono avvicinati alla casa a bordo di un Alfa Romeo Stelvio di colore scuro. Hanno infranto i vetri dell'abitazione del titolare di una notta ditta di autotrasporti. I titolari, marito e moglie, più tre figli, erano negli uffici a piano terra. In un primo tempo non hanno sentito nulla. I ladri, dopo aver fatto razzia al secondo piano, sono scesi al primo, dove hanno rotto un altro vetro. Il fragore dei vetri caduti a terra questa volta è stato percepito dall'ufficio. Uno dei figli dei titolari è salito e si è trovato di fronte a un ladro. L'ha afferrato ad un braccio e ne è nata una colluttazione sul balcone. Nel frattempo dalla strada è arrivato un complice che urlava «Lascialo o ti sparo, lascialo o ti sparo!» e al giovane non era stato che mollare la presa. Nell'oscurità non sarebbe stata vista la pistola, ma il braccio teso del complice faceva desumere che fosse effettivamente armato. L'auto con il ladro e il bottino, che era già stato lanciato dal balcone, si è allontanata velocemente verso lo svincolo dell'autostrada 26 dei Trafori in direzione sud. Intanto dall'ufficio dell'azienda è partita la chiamata al 112. A disseguire i fugitivi si è lanciata la pattuglia dei carabinieri della stazione di Gattico, che erano già sulle tracce di quest'alfa Romeo Stelvio, segnalata da altri cittadini del territorio. L'inseguimento è durato a lungo, ma poi la vettura con i rapinatori, dopo aver superato la barriera a Lago Maggiore, si è dileguata verso sud a fortissima velocità. Anche un'auto della stradale di Romagnano-Sesia si è lanciata per intercettarla. Si presume si tratti di una vettura rubata, proprio con l'intenzione di usarla per mettere a segno dei colpi. Mai i malviventi si sarebbero avvicinati all'obiettivo con una vettura propria. Racconto ancora spaventata la titolare dell'azienda. Ci hanno portato via circa 30.000 euro in preziosi orologi a valori vari, ai quali si debbano aggiungere 3.000 euro in banconote, che avevamo in casa. È stata una serrata di terrore, sarà molto difficile dimenticarla. È incredibile la sfontatezza dei ladri che si sono avvicinati sapendo che eravamo negli effici sottostanti. Coordina le indagini il magistrato verbanese di turno. Il fatto è stato derubricato come rapina impropria, proprio per la colutazione che è avvenuta con il malvivente. Cambiamo argomento. Riale vestita di bianco domani inaugura la stagione sugli sci stretti. Prima in Piemonte, allestito un anello di circa 6 chilometri. E per l'occasione questa domenica si scia gratis. Primo in Piemonte, domani apre il centro del fondo di Riale. Con una domenica speciale si scierà gratuitamente su un anello di circa 6 chilometri. Si preannuncia meteo permettendo un buon autunno-inverno, frutto del lavoro e dell'impegno costante degli ultimi anni per sviluppare l'Alta Valle. Le precipitazioni di ieri sono state la ciliegina sulla torta per l'avvio di una stagione che ha visto per la prima volta qui l'avvio di un progetto particolare, quello dello snow farming. Consiste nel conservare la neve dall'anno precedente e serve principalmente per dare la possibilità agli atleti di venire ad allenarsi il prima possibile. Quest'anno è stato un anno sperimentale perché dopo aver così essere andati dai nostri colleghi in terra francese, svizzera oppure a Livigno abbiamo cercato di capire un po' com'è la tecnica, come si organizzano loro e noi abbiamo riportato il concetto qui in Alta Valle. Come in tutte le prime volte, qualche aggiustamento sarà necessario ma come detto le lacune sono state colmate dalla neve giunta dal cielo e ora in attesa delle vacanze natalizie, ovviamente uno dei periodi più importanti in termini di affluenza, si guarda alle squadre di fondo, diverse quelle attese perché Riale è diventato ormai un punto di riferimento per la preparazione degli atleti. Nel prossimo futuro, da qui a poco, avremo la possibilità di avere la nazionale italiana, avremo giovanile, avremo con 60 atleti, avremo la nazionale B francese, avremo diversi sci-club svizzero-francesi che vengono a trovarci. Ecco, quindi questo testimone è il fatto che il progetto funziona. Intanto sportivi e non possono farsi rapire dal fascino della prima neve e godersi questo paesaggio fiabesco per una sciata, per una passeggiata, per un caffè circondati dalle vette imbiancate. Le previsioni meteo per domani sono buone, ci sarà il sole, atteso solo qualche sporadico passaggio nuvoloso. Apriamo la pagina dedicata alla sanità. Ieri la riunione della rappresentanza dei sindaci dell'Asla, della quale già vi abbiamo reso conto. Nell'occasione il direttore generale dell'azienda sanitaria ha tracciato un quadro dell'attuale situazione di servizi, un quadro molto difficile, con gravi carenze di personale. Direttore, si parla tanto di sanità in queste settimane, ma qual è lo stato di salute nelle prestazioni, nei servizi della sanità nel nostro territorio? Ci sono molte parti dei nostri servizi, soprattutto quelli ospedalieri, in cui abbiamo gravi carenze di personale. È un concetto che ho già avuto occasione di esprimere, ma ho voluto ribadirlo oggi alla rappresentanza dei sindaci che sono responsabili della salute dei cittadini. Le difficoltà a cui andiamo incontro sono carenza di medici in molte specialità, in particolare i pronti soccorsi, che hanno la metà della dotazione come dipendenti, abbiamo solo la metà dei medici necessari, ma anche le ortopedie, soprattutto oggi quella di Domodossola, le pediatrie, l'ostetricia, ginecologia, ma anche critici datali abbiamo in neurologia e in altre specialità. Per cui è veramente difficile, per cui il nostro sforzo è comunque di garantire i servizi come devono essere fatti, a volte, spesso, ricorrendo a medici non dipendenti, ma medici cosiddetti gettonisti o forniti da ditte private. In questo senso c'è stato anche un richiamo, mi correga se sbaglio, da parte della Corte dei Conti sull'utilizzo dei gettonisti e le chiedo anche l'eventuale ospedale unico, nuovo, non entriamo nel discorso dell'obbligazione, risolverebbe una volta per tutte questi problemi? Ma io spero soprattutto che negli anni che ci separano da un nuovo ospedale la situazione dei medici migliori, cioè che a partire dal Governo centrale e poi le regioni che si stanno già muovendo, la nostra regione in particolare, per ampliare il numero di giovani medici in specializzazione che possono entrare negli ospedali e essere assunti e sia a incrementare anche un pochino il numero degli iscritti a medicina, in modo tale ad avere un numero più alto di medici. Per cui da qui al nuovo ospedale mi auguro, ma confido, visto anche gli sforzi della nostra regione e del Governo, di poter avere poi una dotazione migliore. Il Consiglio Comunale di Cannobbio ha approvato tra i primi l'ordine del giorno, condiviso dai sindaci del Verbano, che chiede di rivedere la riorganizzazione dei servizi ospedalieri e sanitari del VCO, decisa dalla regione Piemonte. Voto favorevole di 12 consiglieri sui 13 del Comune, unico astenuto Giovanni Rubini, obiettivo comune. Favorevole invece l'altra consigliera di obiettivo comune, Elisabetta Cascilli. Cannobbio e la Valle Cannobbina siamo il territorio che abbiamo più disagio per recarci nel nuovo ospedale. La nostra posizione sicuramente ci vuole un ospedale unico, ma è da rivedere la locazione. Ci batteremo fino alla fine con gli altri sindaci del Verbano perché secondo noi la proposta della regione è stata fatta solo a scopo politico senza pensare al bene della salute di tutte le comunità. Come dico, noi già abbiamo tutta la strada in dissesto, sia la Statale 34 che la Valle Cannobbina. In più dobbiamo mettere una distanza chilometrica di quasi 70 chilometri per recarci sulla piana dell'Ossola trovo discapito nei confronti della mia comunità. Saremo al fianco del comune di Verbagna e faccio un appello a tutta la mia comunità che sabato 16 novembre venga al Consiglio Aperto Comunale di Verbagna che dovremmo farci sentire, dobbiamo essere numerosi per far sì che la regione riveda la propria idea e riusciamo magari a cambiare il progetto dell'ospedale. Noi crediamo in un ospedale unico, però baricentrico. No al nuovo ospedale a Domodossola, no al declassamento del Castelli. Questi gli slogan della raccolta firme oggi a Verbani, a Gazzevo, per promuovere la sottoscrizione della petizione promossa da tutti i sindaci del Verbano e dai promotori anche l'invito, come abbiamo sentito anche dal sindaco Minazzi poco fa, a partecipare al Consiglio Comunale Aperto del 16 novembre per contestare la riorganizzazione sanitaria proposta dalla regione. Il presidente del Consiglio Comunale Verbanese Albertella parla di una grande affluenza ai Gazzebo Verbanesi con già nel pomeriggio il superamento delle mille firme raccolte. E' partecipata a riunione pubblica ieri sera a Premosello Chiovenda si è parlato di Casa della Salute ma anche di futuro della sanità provinciale. Si è tornati sull'assenza del sindaco Monti alla riunione dei giorni scorsi a Domodossola. Nuova Casa della Salute e Futura della sanità provinciale alla luce della riorganizzazione prospettata dalla regione. Se ne è parlato ieri sera a Premosello Chiovenda in una riunione pubblica molto partecipata gremita la sala consigliare. Presentato il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'ex ospedale maternità di parte della RIS e della nuova Casa della Salute con interventi strutturali per circa 1.900.000 euro. Nelle prossime settimane attraverso la CUP di Verbania il via alle procedure di appalto integrato ovvero comprensivo di servizi e opere di riqualificazione del valore di 23 milioni di euro. Obiettivo dell'amministrazione Monti è inaugurare la nuova struttura prima del rinnovo amministrativo che sarà nel 2021. Poi riflettori puntati sulla sanità provinciale è stato un bel dibattito molte persone sono intervenute c'era un pubblico qualificato diversi gli addetti ai lavori riferisce il sindaco. Lo stesso spiega che gli interventi hanno evidenziato la necessità di avere una sanità di eccellenza che dice solo un nuovo ospedale unico provinciale può garantire non ci sono state indicazioni rispetto al luogo. Giuseppe Monti sottolinea che i presenti hanno avallato la sua decisione di non prendere parte all'incontro domese convocato dal sindaco Pizzi su richiesta di Cirio sono stato criticato sui social ma io rispondo ai miei cittadini afferma Monti aggiunge che si proseguirà su questa linea preannuncia anche un nuovo confronto con i cittadini e l'opposizione con un consiglio comunale aperto prenderemo posizioni ufficiali dice Monti solo nelle sedi preposte la conferenza dei sindaci Asle dopo aver visionato proposte ufficiali da parte della regione Piemonte supportate da elementi tecnici validi e verificabili i cittadini hanno infine auspicato una unione del territorio provinciale evitando fratture tra le tre realtà territoriali nota positiva anche la presenza in sala dei due consiglieri di minoranza dopo il riconoscimento dello stato di emergenza per la frana di giugno di Formazza venuto da parte del consiglio dei ministri nei giorni scorsi e chiesto dalla regione intervento del governatore Cirio e dell'assessore Gabusi che lo ricordiamo avevano anche effettuato un sopralluogo in estate in valle una volta riconosciuto lo status si può avviare l'iter per il ripristino dei danni e le compensazioni economiche Gabusi e Cirio spiegano che la messa in sicurezza di Formazza avrà risorse straordinarie gli interventi urgenti e di riduzione del rischio inseriti nello stato di emergenza ammontano oltre 1,6 milioni di euro e prevedono la rimozione dell'ingente quantitativo di detriti franati circa 15 mila metri cubi che incombono sull'abitato di Ponte e ostruiscono il torrente Vannino la sistemazione idraulica del torrente il ripristino del Vallo Paramassi a Valdo e la realizzazione delle opere sul rio Rich a tutela dell'area ed ora la cronaca dell'ultima riunione del Consiglio Comunale di Domodossola Simona Pedrolli è ufficialmente la nuova consigliera del Movimento 5 Stelle a Domodossola il subentro a Monica Corsini è stato votato giovedì sera dal Consiglio Comunale è un onore per me poter stare su questi banchi il primo commento della neoconsigliera Corsini lascia per motivi di salute a lei un grande in bocca al lupo è arrivato da tutto il consenso municipale gli esponenti dei vari partiti si sono succeduti negli interventi per ricordare nel rispetto dei ruoli il lavoro fatto insieme in oltre tre anni di amministrazione a loro si è unito anche il sindaco Pizzi Monica Corsini da sempre bandiera del movimento grillino è stato uno dei volti che maggiormente hanno caratterizzato il movimento pentastellato in ossola è stato il presidente del parlamentino domese Carlo Valentini a dare lettura della lettera con cui si è congedata dal consenso una lettera appassionata che lascia trasparire la passione che ha contraddistinto il suo attivismo in politica la sala consigliare di Domodossola scrive ha rappresentato per me una pagina preziosa della mia vita e sono certa che Simona Pedroli attivista del movimento ma soprattutto amica riuscirà a ricoprire quel ruolo con la passione che la contraddistingue in apertura dei lavori l'assemblea domese ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dei tre pompieri morti nell'incendio in provincia di Alessandria nel corso dei lavori è stata anche votata con la sola stensione del partito democratico l'istituzione della consulta di quartiere per la cappuccina il popoloso quartiere che si estende a ridosso del centro sino a lambire il torrente Bonia ai confini con Crevola d'Ossola ora saranno gli uffici comunali a dover predisporre gli atti che porteranno alla nascita della consulta all'unanimità invece è passato il documento presentato dai democratici a sostegno del popolo kurdo ultima annotazione è stato deciso di trovare nuova collocazione alla sedia che riporta la targhetta rossa con inciso il numero telefonico 1522 a supporto delle donne vittime di violenza non sarà più confinata in un angolo dell'aula consigliare ma sarà posta a ridosto dei banchi consigliari si è parlato di emporio dei legami esperienza di solidarietà avviata a Verbagna a febbraio nell'ultima puntata del Sasso nello Stagno il settimanale condotto dal nostro direttore torna anche domenica alle 14 la puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno l'abbiamo dedicata all'emporio dei legami un'iniziativa che è partita a Verbagna nel febbraio scorso e che ha tratto il primo bilancio dopo sei mesi di attività e un'iniziativa che ha già costituito una splendida rete di solidarietà cittadina e che sta per il momento aiutando circa 250 famiglie che hanno bisogno dei generi anche alimentari o dei generi di prima necessità ecco abbiamo avuto con noi il referente di questo emporio dei legami Paolo Micotti e una delle 47 volontarie volontari che gestiscono questo emporio Francesca Doneda ecco proprio a Francesca vorrei chiedere come può un cittadino di Verbagna aiutare concretamente l'emporio può venire da noi può portare prodotti può noi siamo sempre alla ricerca di volontari per cui può venire da noi e noi siamo assolutamente disponibili ad accogliere nuove persone come volontari facciamo delle iniziative diverse per cui partecipare alle iniziative che noi facciamo come alle raccolte alimentari che vengono promosse dai comuni e adesso abbiamo in mente iniziative diverse anche per i bambini che comunicheremo in seguito per cui partecipare a queste attività che noi facciamo quindi chiunque può partecipare a questa splendida avventura grazie lunedì Michele Riondino al Teatro Maggiore di Verbani alle 21 protagonisti saranno le parole il corpo e la danza con Leonardo Da Vinci anatomie spirituali il coreografo Raffael Bianco con la compagnia Egri Bianco Danza mette in scena uno spettacolo ispirato ai disegni della figura umana di Leonardo Da Vinci con la partecipazione straordinaria di Riondino si tratta di una produzione speciale concepita espressamente per il maggiore il pubblico verrà catturato dagli effetti multimediali proiezioni suoni della natura ed ecchi di musica rinascimentale caratterizzano un evento di forte fascino e di grande rilievo culturale dal 16 di novembre al 29 di dicembre torna la grotta di Babbo Natale a Ornavasso che compie 10 anni e per celebrare il decennale propone eventi dedicati e tante novità tra queste l'allestimento di uno straordinario presepe napoletano nella chiesa della Madonna della Guardia pensate il presepe fu inaugurato da Benedetto XVI e ve lo mostriamo in anteprima con sfere la tradizione partenopea a Proda Ornavasso in occasione dei 10 anni della grotta di Babbo Natale all'interno della chiesa della Madonna della Guardia che ha allestito uno straordinario presepe napoletano il presepe bianco è composto da circa 200 pastori ovvero personaggi alti circa 40 centimetri da circa 50 animali composti con vari materiali che vanno dalla terracotta a legno al piombo e da una serie di cesti cestine che vengono denominati accessori che riguardano sedie panche tavoli e così via la caratteristica di questo presepe è quello di avere la possibilità di girarlo a 360 gradi quindi noi abbiamo un fronte e abbiamo un retro e questo tende anche a stupire lo spettatore la classica scena di partenza di tutti i presepe in particolar modo di questo è la scena dell'annunciazione ovvero l'arcangelo Gabriele che annuncia al pastore denominato personaggio della meraviglia la nascita del bambino da qui quindi passiamo subito alla scena principale che è quella della natività sulla quale viene circondata dalle due scene di ricchezza ovvero quella della taverna sulla sua sinistra e quella degli orientali sulla sua destra scena clou del presepe è quella che crea più confusione che quella del mercato il mercato in questo caso lo troviamo nella parte posteriore del presepe ed è animato da circa 100 personaggi e dagli animali nonché dalle varie botteghe il presepe è realizzato interamente secondo i canoni del 700 napoletano ovvero è fatto interamente in legno e sughero e stucco non ci sono presenze quindi di materiali più contemporanei come potrebbe essere in questo caso il polistirolo caratteristiche principali e piccole curiosità noi le possiamo trovare sia nell'abbigliamento dei pastori sia in alcuni angoli per esempio una chicca potrebbe essere che alcuni personaggi hanno degli abiti interamente ricamati a mano con stoffe pregiate proveniente da San Leuscio e da abbigliamenti con bottoni in argento e botte con collane in perle Ashtag Grotta di Babbo Natale per condividere questa straordinaria esperienza a Ornavasso dal 16 di novembre al 29 di dicembre Mostra della Camellia invernale questo fine settimana Villa Giulia Verbania e l'edizione numero 15 si è aperta oggi l'esposizione quest'anno ha una veste rustica in un suggiustivo contrasto con l'eleganza delle sale della villa e la delicatezza dei fiori accanto a questo allestimenti la mostra a mercato le opere dell'artista Alessia Zucchi la mostra curata dal museo del paesaggio Villa San Remigio sguardi sul giardino e poi convegni incontri laboratori proiezioni visite guidate alla scoperta delle più belle collezioni di camellie dei giardini di Verbagna ed intorni su prenotazione e ancora iniziative per bambini illustrato anche il progetto della biblioteca delle camellie a Villa Maioni obiettivo la creazione di un campo catalogo intitolato a Piero Illebrand recentemente scomparso con varietà provenienti da tutto il mondo anche in vista del 2020 quando Verbania ospiterà il congresso mondiale della camellia in apertura di pagina sportiva il ciclismo su pista con l'ottimo argento di Ganna e dei suoi compagni di squadra ai mondiali di Glasgow un argento grande così quello dell'Italia in Coppa del Mondo nell'inseguimento a squadre a Glasgow nella finale della seconda prova della Coppa del Mondo gli azzurri hanno chiuso al secondo posto ma tallonando sino al termine la favoritissima Danimarca che ha vinto la prova dopo il secondo posto in qualifica ecco una semifinale straordinaria per Ganna Consonni Lamone e Bertazzo che volano ed abbattono per la prima volta al muro dei 3 minuti e 50 gli azzurri hanno pedalato in 3.49.464 record italiano battendo i transalpini e qualificandosi alla finale nel lato decisivo Francesco Lamone con Simone Consonni Michele Scartezzini che ha preso il posto di Bertazzo e Pippo Ganna sono partiti forte sono andati sotto ma nell'ultimo chilometro della prova con il neo recordman dell'individuale ancora super hanno tentato un recupero che li ha portati vicini al colpaccio da rimarca prima in 3.49.256 contro il 3.49.920 azzurro davvero un quartetto di applausi che per due volte nella giornata che celebra il trentennale del crollo del muro di Berlino abbatte il proprio di muro quello dei 3 minuti e 50 che mai aveva superato e si avvicina repentinamente alle Olimpiadi termina così la stagione di Ganna ora le vacanze e la grande festa del 30 novembre nella sua vignone che ha illuminato la facciata del municipio con i colori dell'arcobaleno Dall'oleggio basket segnalano la ricezione dell'ordinanza del comune di Castelletto Ticino che comunica la chiusura del palazzetto adatta da destinarsi la motivazione sarebbe da riferirsi a un preoccupante andamento incrementale di alcune lesioni con un quadro fessurativo in costante peggioramento al momento dicono dalla squadra non abbiamo altre notizie attendiamo il sopralluogo di lunedì per decidere come muoverci e prendere decisioni quindi ed ora il consueto menù del calcio della domenica in Lega Pro match difficili per Novara e Gozzano gli azzurri al Piola ricevono il Como prima di due trasferte consecutive imperativo vincere per rimanere agganciati alla zona playoff i rosso-blu di Sasserini cercano conferme alla Franchi con la Roborsiena dopo il successo con l'Albino Leff e il Gozzano vuole un altro risultato positivo nella programma di serie di trasferte in Toscana per il La Verbagna i bianco cerchiati cinque punti nelle ultime tre partite affrontano la nobile decaduta lucchese al Porta Elisa per la classifica sarebbe importante ottenere un risultato positivo dopo due capo consecutivi in Liguria il Borgossese ad accanto suo affronta l'MLB il Seravezza Pozzi Granata chiamati a vincere per allontanarsi dalle zone meno tranquille della graduatoria in eccellenza insidia Fulgor Valdengo tre vittorie di fila per la prima della classe Greville il Borgo Vercelli è atteso dalla non facile trasferta di Borgaro per i ragazzi di Moretto un punto negli ultimi 180 minuti importante tornare a fare il risultato per avere una conferma delle proprie ambizioni la lanciatissima romettinese Cerano affronta un Baveno in difficoltà nell'ultimo mese scivolato fuori dalla zona playoff le due squadre si sono già affrontate in settimana in coppa con il largo successo della squadra di Civeriati debutto complicato per Roano sulla panchina dell'Oleggio gli Orange ricevono l'Accademia Vorgo Manero nel derby novarese al Forlano lo Stresa deve tornare al successo i ragazzi di Talarico affrontano la licea orizzonti in promozione non mancano i merci da seguire al curotti la Juve domo di Morellini prima in classifica misura la crescita del Vule Bellinzago che in trasferta ha già fatto qualche esploat a liberazione Lomenia in un momento di involuzione ospite al Piedi Molera il Abriga dei Miracoli sfida il Cossato dorme in letto sul campo della Sparta Novara a Rona con il Vigliano e Vogogna con la Rufur Barallo è tutto grazie per l'attenzione e buona domenica